Bene, senti, allora appunto ti stavo presentando, sei il guru di Radio I Love Music, nonché grande mio amico, grande performer sotto tutti i punti di vista. Sono fuori voce, sono fuori voce. Sono stato rimpiato. Beh, allora proseguiamo, cerchiamo di correggere, proseguiamo perché poi dopo... Sono riferito io. C'è il brano di Edoardo, con tanto di dedica. Intanto ci ascoltiamo questa always. C'è il brano di Edoardo. 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 Il brano di Edoardo. C'è il brano di Edoardo. C'è il brano di Edoardo. Ma come fa? Pronto, ora c'è la voce? C'è? C'è la voce? C'è? C'è? C'è un ragazzo. Non ti parla. Non ti sento. Non ti sento la voce tua. Non si sente la voce mia. C'è solo il canale musica. Ma dai, non è possibile. E ora si sente? C'è il brano di Edoardo. No. Ragazzi, ragazzi. Come si fa a non sentire? Ma cosa vuoi fare? Non sentire. Mi sembra strano. Come giù. A me me lo dà il volume. Mi dà tutto a posto. Si dovrebbe sentire. Eccolo. E' il bello della diretta questo, eh? E' il bello della diretta. E' il bello della diretta. Può darsi che ci sia un disturbo sulla linea, sai? Boh, non lo so. Comunque. Cocco, ci sei? Eh. In realtà è che c'è un bambino che pò rosa sera. Ora non... Eh. Allora. Comunque, siamo qui. Per farmi la presentazione. Io vai entro. E Edo, l'ho ampiamente presentato durante il corso della programma, ma finalmente è qua, con noi, e gli lascio presentare a lui il prossimo brano, che voleva, aveva una dedica particolare, no Edo? Edo? Edoardo? Ciao, Rocco. Ecco. Ciao, Rocco. Nuovamente ho avuto a tutti gli ascoltatori di Radio Plastic. Scusate per l'inconveniente tecnico, ma stiamo trasmettando da delle località molto distanti, ringrazio il mio carissimo amico Cocco per l'invito nuovamente a partecipare alla sua transizione. Anche stasera sentiremo di la grande musica house, che è la moglie che tutti i miei di sera il nostro amico Cocco ci fa sentire, ci fa ascoltare. Io ho, nel l'invito semplicemente in questo momento, salutato il mio grandissimo amico Cristiano, un amico di infatti, un amico di tante avventure. direi, dico, un pezzo molto particolare, che per noi è un pezzo che ci riguarda la nostra infatti. Che abbiamo sotto, già? Di Ferroia, di Tango, grande remix di Hermes, cioè Rosselli, poi la room diretta da New York, perché Cristiano, da Dovardo Terra, per tutti i ascoltatori di Radio Plastic. Un saluto da Radio L-O-Mau. Ciao, ciao. Ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Ciao 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 One, two, three, four One, two, three, four Ciao 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 Grazie a tutti.